Come amavano gli antichi romani? Non è un tema facile da trattare in televisione, la cosa migliore è entrare nel loro mondo. Con Alberto Angela, uno straordinario viaggio nel mondo della passione e dell'erotismo di 2000 anni fa. Ricostruiremo matrimonio di una ragazza romana. Attraverso luoghi da scoprire, testimonianze storiche e tante curiosità. Fatto di fantasie sessuali, beh, i romani avevano raggiunto dei livelli davvero insospettati. Ulisse, il piacere della scoperta. Sabato alle 21.30, Rai 3.